Delle esplosioni sono avvenute questo lunedì in due basi aeree russe. Gli incidenti si sarebbero verificati nelle regioni di Saratoveria-Zan, nel centro del paese, e secondo le agenzie di stampa statali russe ci sarebbero tre morti e cinque feriti. Il portavoce del Cremlino, Dmitri Pescov, ha fatto sapere che il presidente Vladimir Putin è stato informato della situazione. Mentre ciò accadeva, Putin si trovava in Crimea per ispezionare personalmente il ponte di Kerch, danneggiato da un'autobomba attribuita all'Ucraina. Come mostrano queste immagini trasmesse dalla televisione di Stato russa, il presidente ha visitato la sezione ricostruita del ponte. Lo scorso ottobre una grave esplosione aveva causato il parziale collasso dell'infrastruttura di vitale importanza per Mosca, perché collega la penisola di Crimea, controllata dal Cremlino, alla terraferma russa.